Hanno catturato un cinghiale con un laccio di ferro e lo hanno ucciso a colpi di mazza. Ma sono stati sorpresi dai carabinieri forestali e per loro è scattata la denuncia. All'arrivo dei militari, bracconieri ancora sporchi di sangue, stavano provando a nascondere le armi utilizzate. È successa a terra nuova Bracciolini, a finire nei guai due cittadini albanesi residenti a Montevarchi. Sono stati intercettati nel corso di un servizio anti-bracconaggio. I militari li hanno fermati mentre stavano trascinando con un trattore la carcassa del grosso cinghiale. L'animale aveva la testa completamente fracassata. I bracconieri avevano provato anche a disfarsi del materiale utilizzato, gettando in un cespuglio di rovi una mazza e una grossa accetta, ma sono stati comunque notati. A quel punto uno dei due ha ammesso di aver ucciso l'animale e di aver piazzato il laccio in cui il cinghiale era rimasto intrappolato. Il bracconieri inoltre ha consegnato altri lacci che ancora non aveva utilizzato e accompagnati i militari nel posto in cui l'animale era stato catturato e violentemente ucciso. Sul posto erano presenti altre tre trappole già piazzate che sono state immediatamente rimosse e poste sotto sequestro assieme alla mazza, l'accetta e ai lacci già consegnati. I due sono stati denunciati alla procura della Repubblica di Arezzo per uccisione e maltrattamento di animali. Inoltre i carabinieri forestali hanno ravvisato anche la sussistenza del reato di furto aggravato e di caccia effettuata con mezzi vietati. In seguito i militari, su disposizione del magistrato di turno Elisabetta Iannelli, hanno provveduto alla sepoltura del cinghiale ucciso.